Accoltellato dal barista che poco prima l'aveva servito dal bancone del suo bar e accaduto sabato notte a Scaltego di Mirano, il barista del bar centrale, un cinese di 36 anni, ha reagito alla provocazione del cliente, un romeno di 26 anni, che sebbene ubriaco fradicio, pretendeva ancora da bere e per questo l'aveva pure minacciato. Il gestore del bar cinese, di tutto punto, anziché soccombere all'aggressione, ha afferrato un coltello della lunga lama, ferendo gravemente all'addome il romeno, oggi ancora in rianimazione a Mirano. Il cinese invece si trova da sabato in carcere a Santa Maria Maggiore di Venezia con l'accusa di tentato omicidio, a chiamare i soccorsi con l'arrivo dei carabinieri un cliente che ha assistito al violento parapiglia.